Gabriele Basilico, nato a Milano nel 1944 e morto sempre a Milano nel 2013, è stato uno dei maestri della fotografia contemporanea. Ha iniziato a fotografare nei primi anni 70, dopo essersi laureato in architettura, e i suoi ambiti di interesse fotografico sono sempre stati la città e il paesaggio urbano. Il primo incarico internazionale gli viene conferito nel 1984, quando partecipa insieme ad altri fotografi alla Mission Photography de la DATAR, un progetto commissionato dal governo francese per documentare le trasformazioni del paesaggio in Francia. A ogni fotografo, lui era l'unico italiano, era stato chiesto di presentare un progetto e il contratto prevedeva sei mesi operativi sul territorio. I primi mesi Basilico li ha dedicati a un sopralluogo fotografico dei vari luoghi, mentre i mesi successivi, con una camera folding 10x12 e un cavalletto, è tornato per fotografare in grande formato nei luoghi della Bretagna e della Normandia che lo avevano colpito maggiormente. Da questo progetto nasce Bordemere, lavoro fotografico che raccoglie una selezione delle fotografie scattate da Basilico tra il 1984 e il 1985 in Francia, partendo dal confine col Belgio e scendendo fino a Mont Saint-Michel. La prima edizione del libro risale al 1990, mentre questa che sto sfogliando è la quarta edizione, pubblicata nel 2017 da Contrasto. Questa edizione è stata integralmente concepita e realizzata da Basilico e avrebbe dovuto essere pubblicata nel 2013. La prima e la seconda edizione contenevano 37 immagini, la terza 55, mentre in questa Basilico ha voluto inserire 71 immagini grandi, tutte in bianco e nero, e alla fine del libro ha proposto anche una ulteriore sequenza di 135 foto in piccolo formato, presentate in opi per pagina. Sotto ogni immagine, oltre alla didascalia, compare anche un codice, che è quello con cui le foto di questo progetto sono conservate alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Questa revisione delle immagini proposte nasce dall'idea di Basilico di considerare l'archivio come qualcosa di organico. Ha dichiarato, Quando guardo l'archivio, la mia memoria va automaticamente alla ricerca di nuove relazioni tra le immagini. L'archivio mi aiuta ad avere il senso del tempo che scorre, ma mi suggerisce anche accostamenti e visioni nuove. Le immagini accostate diversamente in tempi diversi riacquistano una nuova identità. La sfida di questo nuovo libro è la conferma del mio bisogno di rileggere periodicamente l'archivio, di scoprire cose fino a oggi mai pubblicate, di costruire sequenze inedite. Tutte le foto sono state scattate con il banco ottico. Basilico ha scelto il grande formato per la migliore qualità del negativo, per la finezza e la morbidezza nei dettagli, e per la possibilità di controllare e correggere la prospettiva. Ha detto, Ho lavorato con il banco ottico, e questo ha rallentato i ritmi. Muoversi, guardare, scegliere, decidere dove scattare la fotografia, montare la macchina sul cavalletto, e magari decidere di non scattare. Contemplare, nella mia accezione, ha il significato di metabolizzare il paesaggio, di farlo diventare qualcosa che vive dentro di te. L'immagine è una costruzione, un filtro che si viene a porre tra chi guarda e la realtà che sta davanti. Siamo sempre in due a raccontare una storia, il soggetto, che nel mio caso è il luogo, e il fotografo, che fa la foto. Secondo Basilico, l'energia di un luogo non è data solamente dalla sua forma, ma è data da un momento specifico nel quale la luce, il tempo atmosferico e le sue mutazioni si esprimono ed entrano in dialogo con il luogo. Questo progetto fotografico costituisce una tappa fondamentale nella carriera di Basilico, un punto di riferimento essenziale, in quanto ha identificato un modo di procedere, precisato le implicazioni della sua fotografia, affermato uno stile che procede con il ritmo imposto dall'utilizzo della macchina a banco ottico. Il libro contiene, oltre a nuove foto, anche di testi inediti, scritti appositamente per questa quarta edizione e pubblicati sia in italiano che in francese. Il formato è 28x24 cm, la copertina è rigida e la qualità di stampa delle fotografie, a mio parere, è molto buona.